Bianca Berlinguer perdona Franco Di Mare. Un abbraccio fortissimo. La sorprendente unione di Bianca Berlinguer e Mauro Corona per Franco Di Mare. Un gesto di solidarietà che supera gli scontri passati. La giornalista Bianca Berlinguer, nota per i suoi toni decisi e combattivi, si è unita a Mauro Corona per inviare un messaggio di sostegno a Franco Di Mare, noto giornalista affetto da un tumore molto aggressivo. Questo gesto inaspettato dimostra come la malattia possa cancellare le vecchie ruggini e portare alla solidarietà più sincera. La sorprendente unione di Bianca Berlinguer e Mauro Corona per Franco Di Mare, ha catturato l'attenzione di tutti. I rapporti tesi tra i due non sono mai stati un segreto. Ma di fronte alla malattia del noto giornalista, hanno deciso di mettere da parte le vecchie ruggini. Questa inaspettata collaborazione dimostra quanto sia potente il gesto di solidarietà in momenti difficili come questi. Nonostante le divergenze passate, Berlinguer e Corona si sono uniti per inviare a Di Mare un abbraccio fortissimo, desiderando che possa trovare la forza necessaria per affrontare la sua malattia. Un gesto che dimostra che l'empatia e l'amore per il prossimo possono superare qualsiasi ostacolo. La malattia di Franco Di Mare e il gesto di solidarietà di Bianca Berlinguer Franco Di Mare, noto giornalista, ha recentemente rivelato di essere affetto da un mesotelioma, un tumore molto aggressivo causato dall'esposizione all'amianto. Di fronte a questa terribile notizia, Bianca Berlinguer ha deciso di fare un gesto di grande solidarietà nei confronti del collega. Nonostante i rapporti tesi e gli scontri passati tra i due, la giornalista ha dichiarato che in questo momento è importante lasciare da parte le divergenze e mostrare tutto il sostegno possibile a Di Mare. Questo gesto dimostra la maturità e l'umanità di Berlinguer, che ha deciso di superare le vecchie ruggini per abbracciare calorosamente il collega malato. Un abbraccio che supera gli scontri passati. Un abbraccio che supera gli scontri passati. È questo il gesto che sorprende nel rapporto tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona nei confronti di Franco Di Mare. Nonostante i loro rapporti tesi e gli scontri avuti in passato, la giornalista decide di fare un passo indietro e mostrare solidarietà al noto giornalista malato. Questo gesto dimostra come la malattia possa superare le vecchie ruggini e far emergere l'importanza dell'empatia e della compassione. In questo momento difficile, Bianca Berlinguer e Mauro Corona si uniscono per inviare a Franco Di Mare un abbraccio forte, dimostrando che ciò che conta davvero è il sostegno reciproco di fronte alle avversità della vita.